Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Caro saluto a tutti i nostri ascoltatori come scrive la Nazione Sabato e di Milson Fernandes verrà riproposto regista davanti alla difesa Jordan Veretout tornerà alla posizione che più esalta le sue caratteristiche quella di Mezzala in settimana è previsto un incontatto con Pantaleo Corvino per capire il futuro del centrocampista svizzero visto che la prossima estate approderanno in viola due innesti come Zurkowski e Traoré spunta anche un nuovo nome per il futuro è Senk Tosun, attaccante dell'Everton difficile però che gli inglesi si privino per una cifra modica dell'attaccante pagato appena un anno fa oltre 30 milioni per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com A cifra di Fiorentina1.com